Ehi sono Leonas e quest'oggi siamo tornati dopo un botto di tempo ragazzuoli a parlare del vjump ma il botto di tempo è riferito perché si siamo tornati nella grafica ragazzi che tra poco vedrete che è comunque un po' diversa dal solito Quindi ragazzuoli mi raccomando per questo video voglio almeno 300 like tondi tondi detto questo boys tutti i video precedenti a questo qua sto prendendo le schede in primis il video uscito oggi alle 13 in punto dove speculiamo insieme niente di ufficiale mi raccomando sul nuovissimo Broly LR in arrivo in casa global e ovviamente tutti i link come al solito qua sotto in descrizione E detto questo eccoci qua boys direttamente in grafica dopo un botto di mesi ragazzi è tornata la grafica che bene non mancava a me no Ragazzi vjump ecco qua il vjump ragazzi lo starete vedendo sicuramente a schermo non so da che parte di qua di là sopra sotto ma comunque lo starete vedendo Eh si nuovo Goku ragazzi nuovo Goku str tanta roba ragazzi in arrivo un nuovissimo Goku della Namek saga ragazzi che spettacolo devo essere sincero all'inizio si parlava di un dual dockham fest Goku e Freezer E col vjump è stato un po' beh smentito tutto quindi e vai Meno male nessun freezer ragazzi perché un altro dual dockham fest ci avrebbe veramente tagliato la testa perché davvero basta dual dockham fest ci servono i personaggi ma quelli buoni singolarmente non dual dockham fest tutte le volte da buttarci le migliaia di studio No grazie quindi nuovissimo Goku ragazzi nuovissimo Goku in arrivo in casa già ormai questa è la scan del vjump riguardante le dockham sotto si intervede qualcosa di legends ma attualmente non ci interessa le legends Quindi davvero boys tanta roba attualmente in questa scan si sa ben poco si sa soltanto appunto le artwork è molto figa tra l'altro Goku sarà quella sicuramente le artwork Probabilmente alla forma base dell'UR della tour ovviamente quindi avrà penso io la stessa meccanica di trasformazione di Zamasu Trunks quindi probabilmente dopo tre turni diventerà quel Goku Che si accinge a superare i limiti della base form e diventare il Super Saiyan e poi ci sta che al quinto turno quell'Active Skill diventerà quel bellissimo Goku Sicuramente ragazzi il Goku Super Saiyan la otterrà quell'Active Skill dovremmo vedere un po' altre meccaniche nel senso chissà stesse meccaniche di Zamasu Trunks Quindi base form poi dopo tre turni diventa quella centrale e poi dopo il quinto turno quell'Active Skill diventa la Super Saiyan Sarebbe super mega figo sarebbe super arzeccatissimo e un'altra cosa tra l'altro che è appunto confermata è che è Super STR Si vede un po' ragazzi dal type da quel riquadro diciamo in rosso con le scritte bianche con tutti i puntini di ribellini Si è STR ragazzi quindi un altro bellissimo Goku Super Saiyan STR che è da un po' che non si vede un Goku STR da quel che mi ricordo a parte Super Saiyan 4 Goku e Super Saiyan 4 e Super Saiyan 4 vabbè rip Goku Super Saiyan 4 ma va bene ragazzi Questo è il PG di cosa sarà il leader però perché secondo me io la butto là la butto là ma ho paura Ovviamente attualmente non è tutto uno speculando time anche questo è quello che vi sto dicendo Perché io amo speculare io amo speculare ragazzi e non so cosa potrebbe essere il leader se non una Saiyan o un qualcosa del genere ragazzi Perché Goku, Goku Super Saiyan non penso sia il leader Namek Saga perché se da... no vi prego Vi prego Niente è il leader Namek Saga perché sarebbe una bestemmia contro questo Goku E davvero sarebbe e spero che sarà leader di una delle categorie più belle del gioco Perché almeno questo personaggio lo vedremo Sicuramente sarà diciamo entrerà nelle solite categorie di un qualsiasi altro Goku Super Saiyan Quindi ovviamente sì Namek Saga sarà pure Saiyan sarà probabilmente full power Chi lo sa sicuramente sarà transformation boost Sicuramente sarà qualche altra categorie Naturalmente Goku Family Non ne ho in mente Probabilmente sì queste ho detto tutte ci saranno assolutamente Sarà figo vederlo in Goku Family Sarà molto molto figo vederlo in pure Saiyan Nelle altre credo che sarà anche full power Perché comunque questa trasformazione è un po' in cui l'arco narrativo è un po' la sua massima potenza Quindi spero veramente che sarà anche full power Sarà veramente carino vederlo in quelle categorie Non penso effettivamente che sarà presente in altre categorie importanti Attualmente sicuramente qualcuno mi sfugge Però dovremmo vedere Però ragazzi diciamoci la verità È tanta roba Cioè io poco prima di vedere queste artwork ero scettico sia sul pullarci Sia un po' di questo Goku Super Saiyan Perché già da questa mattina che si sa un po' di questo Goku no Però questa mattina c'era anche la voce del dual Dokkan Fest Di Freezer e Goku Che con questo v-jump E con la traduzione vera e propria ed effettiva Di tutto quello che era stato liccato È stato comunque smantellato È stato tutto smentito Quindi contentissimo che non sarà un dual Però sono ero appunto molto scettico sul fatto di questo Goku Perché me No non lo volevo ragazzi Non lo volevo questo Goku Prima di vederlo Poi ho visto la scala e ho detto Boia Ragazzi che spettacolo Che spettacolo Cioè Goku bellissimo Genki-Dama ad una mano E poi bellissimo Goku che L'artwork di mezzo ragazzi è bellissima L'artwork di mezzo è bellissima Magari ve la sto facendo vedere anche qua Schermo un pochettino più dettagliata Ma è bellissima E poi c'è il Super Saiyan di spalle ragazzi Che Oh mio Dio Oh mio Dio ragazzi È bellissimo È l'artwork di Goku più bella che c'è nel gioco Ed è questo il vero Goku Bellissimo Sono super euforico Super in hype ragazzi Perché anche te che mi stai guardando Se non hai lasciato like Non shuffterà per sempre Quindi Ragazzi Bellissimo Sono contentissimo Ho paura A dire il vero A dire il vero Controllando un po' meglio L'artwork E controllando un po' meglio Diciamo quello che stiamo vedendo a schermo Probabilmente La forma di Goku Quella con la Genki-Dama A una mano Diciamo così Che c'ha una mano in alto Potrebbe essere La forma di SSR Perché dico questo? Perché la fleccia rossa Che va a quell'altro Goku È scritto da Khan Awakening Quindi ho veramente paura Che E probabilmente sarà così Che quel Goku Che vediamo piccolo in basso Il terzo Per appunto Quello più piccolo Quella con il braccio alzato Sarà la forma SSR Mentre l'altro Goku Sarà quello Che avremo a tour E probabilmente Avrà soltanto Una trasformazione Quindi sì Probabilmente sarà così ragazzi Anche perché c'è chitto SSR Su quel Goku Quindi sì La forma base ragazzi Che puniremo noi Sarà Quel Goku Con il braccio alzato Mentre la forma tour Sarà Quel Goku bellissimo Bello incazzato ragazzi Goku base E poi Quell'active skill Quasi sicuramente Avrà l'active skill Diventa la super SEAN Quindi sì Mi sono auto smentito Di quello che ho detto Quello che ho detto poco fa Quindi No ragazzi davvero Sono super euforico Sono super euforico E fidatevi Mezz'ora fa Ero più che scelto Evo seppulare Il nostro posto PG Perché era Goku super SEAN E avevo detto Meh Goku super SEAN Basta E invece Invece quello qua Eccolo qua ragazzi È bellissimo Sarò Curiosissimo Di vedere la baccia Non sappiamo niente Su quando uscirà Però devo uscire A questo punto A giorni No Massimo settimana prossima Non penso Che facciano uscire Una scan così E poi me lo fanno uscire Troppo Diciamo Troppo in là Penso che veramente Sarà Sarà a giorni Assolutamente Penso sarà a giorni Se non è a giorni Sarà a settimana prossima Però Wow ragazzi Veramente tanta roba Vi ripeto Attualmente L'unica cosa Veramente certa È che sarà STR Super STR A quanto pare Cosa che abbiamo Confermato qua in video Sarà SSR Forma base Poi quella nel mezzo È la forma tour E quella Quell'altra È quella Con l'active skill Sicuramente Non sappiamo niente ragazzi Né sulla lead Né sulle stats Né niente di niente Ragazzi Proprio zero totale L'unica cosa Veramente certa È che avrà l'active skill Queste sono le artwork Ditemi voi Se non sono bellissime Dovremmo vedere Anche un po' Quali altri personaggi Rail Summon Inseriranno In questa batch Perché Secondo me Sarebbe veramente figo Vedere un bellissimo Gohan Kid Ragazzi Un bellissimo Gohan Kid Con Il bellissimo vestito Da Saiyan No Quello che vediamo Quello appunto Con il caschetto Sarebbe veramente Veramente bellino ragazzi Avere un buffer No Oppure anche un piccolo Oppure anche un Krilin Comunque sono dei personaggi Un po' iconici Oppure anche un Vigita E muore Come sempre Perché Vigita Ne busca sempre Da frise Quindi Quello è un po' Il mood ragazzi Davvero Questo è tutto Quello che sappiamo Attualmente del V-Jump Magari vi terrò Aggiornate ragazzi Sul post community Qua Del canale Ovviamente Entrate nel mio gruppo Telegram Nel mio canale Discord Nel mio Ovviamente Seguitemi anche su Instagram Ragazzi Così da tenerevi Aggiornati Su tutte le varie news Che usciranno Nelle prossime ore Magari anche con altri scan Oppure con la pagina Direttamente Bella Scan Bella pronta Tutta bella lì Che comunque si Nessun Dual Dokkan Fest Evviva Meno male Quella è la cosa più importante Nessun Dual Dokkan Fest La cosa veramente importante È che uscirà questo Goku E ragazzi Preparatevi a pullare Perché secondo me Sarà broken Secondo me sarà Bellissimo di animazioni Perché se no Me lo fanno bellissimo E il Goku Più bello Poi con quei capelli Stile Oh mio dio Ragazzi Per questo video È veramente tutto Sono i mega hype Davvero Ben che fino a 10 minuti Fino a 20 minuti fa Fino a mezz'ora fa Ero Molto scettico Adesso sono In iper hype Quindi ragazzi Davvero Perdonatemi Per questa Autonfinale Grazie mille Per la visione Vi ricordo di lasciare Subitissimo Un bel like Commentino Condivisione Campanellina Se Non perdevi Nessun altro video Grazie mille Assolutamente Ancora una volta Tutti i video Mi piacerebbe Questo Qua sotto Nelle schede Tutti i link Come al solito Qua sotto In descrizione È detto questo Boys E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti